Buonasera, Giannetto Regassani, Presidente dell'Associazione di Avvocati Maternalisti Italiani. Come funzionano i tradimenti reali, supposti, come si documentano e quale influenza hanno su un processo? Diciamo che la maggior parte delle volte le inferiorettà coniugali avvengono per caso, perché magari si scopre del cellulare dell'altro, ma quando gli avvocati vogliono cercare l'inferiorettà ingaggiano gli investigatori. E le prove degli investigatori sono proprio molto importanti, che ci vedono moltissimo, perché spesso sono caratterizzate da fotografie o filmati. Ovviamente possono essere presi soltanto in pubblica via. E hanno un'incidenza notevole perché innanzitutto riescono a dimostrare l'inferiorettà, che è una violazione di una norma ben precisa, ma possono determinare l'addebito e poi l'isarcimento del danno. Attenzione, l'addebito non è soltanto l'unica condanna, è ciò che produce l'addebito dopo. Cioè posso chiedere un risarcimento del danno morale o anche d'immagine, se per esempio l'inferiorettà è stata plateale. Ma attenzione, la Cassazione ha sancito un principio che non tutte le inferiorettà possono essere sanzionate. Bisogna valutare caso per caso se quella inferiorettà è stata la causa della crisi scatenante o la conseguenza di una crisi già in atto. Cioè se è stata la risposta di una inferiorettà consumata dall'altro o la risposta rispetto a delle violenze subite in famiglia. Quindi come vedete non tutte le inferiorettà possono determinare l'addebito. Quindi bisogna vedere chi ha tradito per primo. Chi ha tradito per primo e soprattutto cercare di capire anche che tipo di inferiorettà. Cioè quella virtuale, magari la chat col cellulare. Cioè quella nascosta, ma anche quella ostentata. E come sempre la Cassazione non perdona le inferiorettà quando sono ostentate perché vanno a offendere il decoro e l'onore dell'altro coniuge. Quindi da questo punto di vista la Cassazione è stata molto severa. Abbiamo purtroppo legioni di anziani che sono stati derubati dalle loro badanti oppure costretti a matrimoni improbabili. Allora oggi in intervista al Corriere della Sera Andrea Piazzolla in atto lì c'è un patrimonio di 10 milioni che è scomparso. Allora Piazzolla dice oggi al Corriere della Sera i 10 milioni, i soldi sono stati spesi come voleva lei. Avvocato, come si fa a stabilire come voleva lei? Allora innanzitutto la questione riguarda se all'epoca Gina fosse in grado di poter delegare una persona non capace come Piazzolla di gestire un patrimonio del genere. La posizione di Piazzolla è molto complessa non solo perché ci sono tre processi a carico ma perché a giustificare dove sono andati a finire i 10 milioni. Come sono stati investiti? Si parla di paradisi fiscali. Un mutuo che è stato in qualche modo saldato in unica soluzione con un bonifico di Gina l'obbligida. Una Jaguar venduta per la quale poi si è creato il reato di autoriciclaggio. Per carità c'è una presenzione di innocenza e sicuramente i valosi colleghi faranno di tutto per cercare di salvarlo ma la situazione è molto complicata perché tra l'altro il testamento di Gina toglie la metà del patrimonio all'unico figlio. all'unico figlio. Cioè non ha dato un pezzo di eredità o un legato no, ha tolto metà dell'eredità. Anche questo è un qualcosa che fa capire che probabilmente Gina non fosse del tutto lucida. Oppure bisogna rimostrare che c'era un contrasto talmente grave e giustificato tra Gina e il figlio per arrivare a una scelta così importante. Quindi io credo che la prova dei soldi e quei sospetti ovviamente dalla polizia perché credo che in questo momento non si sono ancora raggiunte le prove di dove sono andate a finire questi denari. Ma 10 milioni gestiti da un signore come Piazzolla che non è un commercialista, non è un manager francamente anche questo è un buco nero da risolvere. Allora, se ti ha volgato qual è la differenza tra i due casi? Ma secondo me ci sono profonde differenze innanzitutto appunto come diceva la dottoressa per quanto riguarda la scelta di Alberto Soldi non era stata diagnosticata nessun tipo di difficoltà psicologica nel caso di Gina sì e questo è il primo punto. Il secondo punto è che Gina Lovigida in effetti toglie mezza eredità al figlio mentre non è la stessa cosa quella che è successa alla sorella di Alberto Soldi perché si parla di nipoti. Anche le conseguenze di questo testamento sono diverse. Attenzione, se Piazzolla dovesse essere condannato ci sarebbero delle conseguenze anche sul testamento di Gina perché a quel punto sarebbe annullato. Ora, non sappiamo come andrà a finire ma certamente gli avvocati... Ma dopo il terzo grado di giudizio sarebbe annullato. Sì. Sicuramente. Sì, ma è l'aspetto del denaro che sposta perché quanti altri casi... Noi parliamo di Gina Lovigida. Sono tantissimi, Ivan. Sono tantissimi. Non dico quotidiano, ma viene replicato nella vita di tanti anziani, anche uomini Ogni giorno impugniamo testamenti fatti dagli anziani. I testamenti olografi sono pericolosissimi. Il Tribunale di Roma è ingolfato in questa causa. Cioè il testamento scritto a mano dalla persona. E chiaramente o vengono fatti sparire o vengono, appena tutta la mano che viene accompagnata. Abbiamo tantissime perizie. Noi abbiamo, soprattutto nell'ultimo periodo, visto che siamo una società sempre dei più anziani, una statistica giudiziaria del 30% circa dei testamenti olografi impugnati e quindi poi annullati. E questa è la cosa più drammatica. Quindi molti anziani sono irretiti da certe persone che hanno degli interessi e si abusa della loro solitudine proprio per creare... In generale chi sono i beneficiari? Beneficiari spesso sono. Possono anche figli. Figli contro altri fratelli. Parenti. Ma succede di tutto. Anzi, le peggiori cause avvengono tra fratelli. Sono peggiori le cause tra fratelli che tra marito e moglie nei peggiori divorzi. Una bella causa questa, eh? Bella causa sì. Capisco il dolore di questo uomo, il dispiacere, però non condivido assolutamente quando vicende così private diventano uno spettacolo. Si approfitta di una festa, anche con dei parenti, e si arriva addirittura a fare un processo in quel modo. Quindi io credo che non sia assolutamente giustificabile. E non possiamo neanche creare la stura a questo tipo di comportamenti, perché visto che è considerato che una buona parte, un 50% delle coppie in Italia si tradisce, e anche gente di un altissimo livello. Se arrivasse a questo tipo di moda, potremmo organizzare tutte le sere delle feste in cui un marito o una moglie possono raccontare a amici e parenti quello che ha fatto l'altro. Francamente sarebbe molto pericoloso, a parte che, a mio parere, ci sarebbero anche gli estremi di un risarcimento del danno. Perché è vero che non c'è la diffamazione, ma c'è l'ingiuria. L'ingiuria non è più un reato, ma è pur sempre un illecito. Quindi io non so come andare a finire. Poi c'è la questione di 700 mila euro, ma poi è un'altra cosa. Credo che su 700 mila euro, se non c'è stata una donazione, per forza un atto pubblico, se non c'è stata la donazione, non c'è l'atto pubblico, questi soldi dovranno essere restituiti. Brutta pagina per una collega. Credo che ci sarà sicuramente anche la radiazione. Ma abbiamo l'ennesima anziana, l'ennesimo anziano, anziana che viene truffata in un modo o nell'altro. Questa è la chiave di lettura. Penso che ci hai dato molti strumenti e fatto un lavoro sociale, perché un italiano su quattro ha più che 65 anni, adesso tutti sanno come va la vita. Sei partito da Totti Hillary, sei finito con Rit Voodoo, io non so se mi riprenderò questa sera.